Anche a Foggia alcuni parrucchieri ed estetisti aderiscono alla protesta nazionale simboleggiata dall'hashtag IoApro, alzando simbolicamente le saracinesche dei propri saloni, rivendicando il diritto a riaprire la propria attività in totale sicurezza nel rispetto delle normative anti-Covid e attirando i controlli delle forze dell'ordine. Io personalmente mi sono sentita di aderire perché davvero non ce la facciamo più, nel senso siamo stanchi, siamo stanchi di essere stati penalizzati, abbiamo investito dei soldi per la riapertura dell'anno scorso, maggio 2020, e comunque noi non abbiamo mai abbassato la guardia sulla sicurezza, quindi assolutamente non meritiamo questo. Tra l'altro non ci sostengono, non arrivano sostegni e dobbiamo vivere, dobbiamo sopravvivere. Avete dunque ricevuto la visita delle forze dell'ordine, di cosa si sono accertati? Si sono accertati che praticamente mi hanno chiesto per quale motivo siamo qui e le abbiamo comunicato che stiamo manifestando un nostro diritto che è il diritto al lavoro. Niente, hanno preso i dati di ognuno di noi e niente di più. Ovviamente siamo in tanti, quindi siamo in tanti ad avere aderito a questa iniziativa, noi stiamo urlando al nostro governo che non ci ascolta e che non ci sostiene. Dobbiamo lavorare, abbiamo bisogno di lavorare, dobbiamo sostenerci. Tutto qui. Cosa che vi ammarica maggiormente di questa situazione di chiusura? Non hanno fatto nient'altro che incentivare l'abusivismo. L'abusivismo che c'è sempre stato, tra l'altro questa volta anche l'abusivismo degli stessi colleghi. Quindi è una tristezza, è proprio un danno all'essere rispettoso verso lo Stato e verso il lavoro. Noi che paghiamo le tasse, perlomeno io, da 30 anni. Noi che paghiamo le tasse, perlomeno io, da 30 anni.